Ciao a tutti, mi chiamo Ryuji Watanave di New Old Camera SRL di Milano. Oggi abbiamo parlato di essere fotografo attraverso le fotografie e immagini di Giulio di Sturco. Come sapete è un grandissimo fotografo, quindi dall'interno, da parte di fotografo, dall'esterno, cioè detto da una negoziante, cioè che elementi dovete imparare, dovete essere o dovete sapere. È tutto qui, mi sono trovato molto bene, io ringrazio Davide o tanti altri miei amici. Ringrazio Amore, è scuola fantastica. Grazie. Ringrazio Amore Ringrazio Amore Ringrazio Amore Ringrazio Amore